Grazie a tutti. L'obiettivo di gennaio era quello di sfoltire quanto più possibile perché la Rosa era molto ampia e quindi anche per dare la possibilità a giocatori che giocavano meno come Dumbià, come lo stesso Torromino, lo stesso Zone, tutti quelli che sono andati via, Chiricò per i problemi che avevano. L'obiettivo era quello di sfoltire e ulteriormente ci sono queste... adesso noi a questo punto ci fermiamo, non andiamo più avanti in nessuna altra trattativa in entrata, se non forse un attaccante che se ci capita un'occasione potrebbe anche essere Saraniti, che abbiamo dato in prestito a Viterbole. Stiamo valutando questa situazione perché Saraniti comunque è un giocatore che ha dimostrato grande attaccamento a noi, alla Maglia e quando è venuto l'anno scorso ha fatto benissimo. Potrebbe essere un giocatore che ha le caratteristiche, soprattutto consentitemi il termine, psicologiche e caratteriali appunto per stare in questo gruppo. Per il resto non faremo altro, se non queste uscite che riguardano se volessero andare di Matteo, Cosenza e Arrigoni. Il direttore, volevo chiedere, Saraniti e non Pucciarelli, cioè se capirete che Pucciarelli non può andare, sono un giocatore di Viterbole, non ho altro oppure avete sempre speranze per Pucciarelli? La direzione che abbiamo preso è questa anche perché con Pucciarelli ci sono purtroppo dei problemi, noi abbiamo trovato già un accordo anche con il Chievo, avevamo un diritto di riscatto, un accordo pluriennale anche con il suo agente, però ci sono dei problemi burocratici nei quali non mi addentro perché sono personali della società del Chievo, per cui la cosa si è bloccata. Se si dovesse sbloccare nei prossimi giorni, quindi nei prossimi due giorni, perché giovedì sera alle 20 chiude il mercato, quindi se si dovesse sbloccare valuteremo poi se prenderlo o no, ma da quello che mi risulta è una cosa molto difficile che al 99% non si fa. Noi è stato forse uno dei primi giocatori che abbiamo trattato, però quando ci sono degli ostacoli insormontabili, non dipendenti dalla nostra volontà, è giusto anche. La sostanza che restano da sfruttire Cosenza, Avrigoni e Matteo, questi tre sono sbagliati. Poi meno che non c'è qualche altra richiesta, la valuteremo, però come ho detto già quando ho presentato il taxidis, ovviamente i giocatori più importanti se ce li chiedono adesso non hanno, troveranno un muro perché gli ultimi giorni non ci saranno, avevo già detto che al ridosso della chiusura non cediamo i pezzi pregiati. Sì, oramai, no, no, assolutamente, i pezzi pregiati oggi non si muovono, su questo sono certo. L'Epole è questa legge tranquillamente? Beh, vediamo se nei prossimi giorni esce qualche esigenza, l'Epole è un altro di quei giocatori che sta giocando poco, però non era sul mercato, però se c'è un'esigenza che magari va lui a scadenza di contratto e va ad allungare il contratto da un'altra parte, la valutiamo insieme a lui con molta serenità, come abbiamo sempre fatto, non ci sono mai state grosse tensioni, cosa mi fa molto piacere perché vuol dire che a Monte c'è sempre un rispetto dei ruoli, un rispetto della persona e un ragionamento. Anche perché lui qualche volta, oh, ma ha giocato al di là del spogliatorio, di uno compagliere, eccetera, eccetera, mi vedete, forse comunque è giustarsi questo per il campionato anche lui da l'incenso. Decide lui, decide lui, decide lui nel senso che noi non l'abbiamo messo sul mercato, io ho detto Cosenza, Arrigoni e Di Matteo, quindi non è sul mercato, però se dovesse venire a chiedermi di andare via è una sua decisione, sto dicendo ha giocato poco, non è, non so, se ci vengono a chiedere Mancosu, oggi Mancosu è incedibile. No, perché riteniamo, a meno che non capita qualche occasione, ma se dobbiamo prendere uno tanto per prendere, ripariamo così, fra altre cose, Venuti è un giocatore che può fare anche il terzino sinistro, l'ha già fatto in passato anche bene. Il mister sta anche provando Marino come terzino sinistro, ci dà delle garanzie, quindi io lì a sinistra avevo detto che avrei preso un giocatore se avessi potuto fare un investimento. Siccome ad oggi non ci sono degli accordi con i giocatori che abbiamo trattato in quel ruolo, non è una priorità, insomma, era un investimento. Magari era un giocatore, per esempio abbiamo trattato questo ragazzo Guiebre del Rimini, per il quale c'era un'idea a monte, cioè quello di portarlo qui, farlo crescere, vedere se non era un giocatore ancora pronto per la B, secondo me, e vedere poi che tipo di crescita avrebbe avuto, ma non è stato possibile, per cui non è una priorità, le priorità nostre erano di migliorare il centrocampo e l'attacco, queste sono le nostre priorità. Il resto era corollario, che sarebbe stato una sorta di investimento, ma non era finalizzato poi al risultato finale, che è quello magari di fare del nostro meglio in questo campionato, che ci vede in questo momento nelle prime posizioni. Però non so se sono stato chiaro, cioè le due operazioni fatti, Taxidis e Tuminello, sono funzionali al campionato, quindi al risultato finale. Riteniamo che siano state delle operazioni che ci dovrebbero far fare il salto di qualità. L'altra sarebbe stata un'operazione di investimento che non è finalizzata al risultato finale, quindi se c'erano le condizioni per farlo, l'avremmo fatta. Oggi non ci sono, vedremo in questi giorni se si riaprono, se no rimaniamo così. Dici, terresta o terresta? Ma sì, assolutamente sì, non è che se non vanno via facciamo guerre, non è nel nostro stile, non l'abbiamo mai fatto, né l'allenatore ha mai fatto una cosa del genere, fra le altre cose sono giocatori, tutti e tre, quelli che ho nominato prima, che hanno fatto parte di un gruppo che ha vinto un campionato, per cui c'è sempre stato il massimo rispetto e ci sarà sempre. Su questo non c'è dubbio. Però è evidente che il calcio poi porta a prendere delle decisioni, a fare delle scelte, ma sono scelte tecniche. Sul piano umano, Arrigoni, in stato cinque anni con me, lo vorrei come figlio io, Arrigoni, per intenderci. Però è chiaro che si fanno delle scelte tecniche e che prescindono poi dai rapporti interpersonali o dai rapporti umani che si possono avere. Direttore, scusi, tornando all'epore, per fare la chiarezza e non ripeterci, se c'è una sua esigenza di andare via, la società è pronta ad accontentarlo. Se vuole rimanere resta, a questo punto le chiedo resta, ma la società a questo punto però non è disposta a sedersi sul tavolo per un rinnovo del contratto. Non lo lascia andare via scadenza? Questi sono discorsi che noi affrontiamo al nostro interno, non noi dobbiamo rendere pubblici. Al nostro interno l'epore sa cosa pensa la società. Più che la società, la direzione tecnica e la direzione sportiva. Lo sa, i procuratori servono anche per questo. Io parlo col procuratore, il procuratore lo informa, ma sono cose che riguardano... Non vedo perché bisogna rendere pubbliche. Poi lei lo vuole sapere, io lo chiedo all'epore, non c'è problema. Sanno tutto. Io sono stato sempre molto chiaro, molto chiaro, ma sono stato sempre chiarissimo. Però non mi sembra logico dire per quale motivo ancora Pucciarelli non è venuta. Ci sono delle cose che non si devono rendere pubbliche. Non posso, non posso farle. In questa assenza di banco, ci sono valori come secondo la punta, che il banco era adattato in lavoro. Non siete un po' scoperti? Ma se fosse stato un infortunio molto lungo, sicuramente avremmo pensato diversamente. Io credo che... Insomma, a gennaio abbiamo fatto una... Abbiamo avuto l'idea di rendere più omogeneo il gruppo, perché in effetti era un gruppo troppo ampio e quindi riteniamo che in questa maniera si possa comunque renderlo ancora più gruppo. Perché è evidente, è fisiologico, che quando hai tanti giocatori e molti prendono poco parte alla gara settimanale, qualche mugugno o qualche scontento c'è, insomma, questo è normale. Quindi abbiamo avuto questa idea di renderlo più omogeneo. Però se Falco avesse avuto un infortunio di due mesi è evidente che avremmo fatto altri ragionamenti. Ma è un infortunio che, insomma, è un taglio, una ferita che ha dei tempi non così lunghi, insomma, da quello che mi è dato sapere. Quindi non abbiamo ritenuto opportuno fare altre operazioni, ma comunque, ripeto, nei nostri pensieri c'è comunque di prendere un altro attaccante che, come dicevo prima, potrebbe anche essere Saranini. Direttore, è assurdo se non dovessi concretizzarsi la recessione di Matteo. Non c'è troppo spazio nemmeno una cosa? Ma io faccio il direttore sportivo, quindi poi di Matteo diventa un giocatore a tutti gli effetti a disposizione dell'allenatore. Però è chiaro che non è stato mai utilizzato e si fanno delle considerazioni. Se non è mai stato utilizzato vuol dire che non rientra nei piani tecnici dell'allenatore. Di questo ovviamente ne parliamo. Quindi abbiamo trovato più soluzioni, non è stato... non si è ritenuto soddisfatto dalle soluzioni che abbiamo trovato e quindi è evidente che non è che possiamo forzarli più di tanto. ma io credo che sia fuori lui da ogni discorso tecnico. Però nel calcio, nella vita, mai dire mai, insomma. Però ad oggi è così. Prego, Carmen. Il terreno di Stato vorrei sapere il suo parere su come si sono rinforzate le squadre in alto o la necessità. Beh, insomma, grosse operazioni non ci sono state. Il Brescia ha preso De Sena, insomma, un giocatore molto esperto. Il Palermo qualche problemino, insomma, ora, seppur di riflesso perché il presidente Zamparini non è più il proprietario, però, insomma, di riflesso qualche problemino ce l'ha. Io guardo più in casa mia, non guardo. Io sono molto contento di come la squadra sta giocando, di come interpreta questo campionato, dello spirito che si è venuto a creare ed è, vi assicuro che è uno spirito che ritrovo ogni volta e vado a vedere un allenamento. Questa è una cosa che mi piace. Non ci sono stati neanche scossoni o comunque situazioni di tensione in questo lunghissimo mercato che, insomma, fra due giorni se Dio vuole finisce. Ultima cosa, perché sembra non essere andata nel video che andava in semplice prestito? Qua c'è complicazione la vita è stata una scelta? No, è stata una scelta ma... Si parlava definitivo? Sì, inizialmente si parlava definitivo, poi dopo ci siamo accordati su un prestito oneroso, quindi c'è stato... Sì, sì, un prestito oneroso è stato, è stato pagato questo prestito e siamo soddisfatti di questa operazione economicamente ma, insomma, davamo più spazio al ragazzo che forse era... rimane di nostra proprietà, non c'è nessun diritto è un prestito secco, quindi è un giocatore che l'anno scorso abbiamo fatto un investimento l'anno scorso aveva fatto 13 gol nel Pescara quindi insomma è un giocatore ambito anche lui aveva mercato e quindi abbiamo pensato di mandarlo un po' di più a giocare. Direttore, ad oggi le piste concrete sono ripilogando Cosenza del Solaregina Arrigoni anche lì io non... Ad oggi è in questo momento? Sì, però io non posso dire le squadre che le stavano cercando perché sarei scorretto nei riguardi dei miei colleghi delle altre squadre quindi hanno mercato sicuramente hanno mercato C? Diciamo così Sì, sì, beh Arrigoni aveva anche una squadra di B che lo cercavo grazie a tutti